La Camera di Marcello Sane ci sta inquadrando di fronte alla chiesetta di Prato Valle, deliziosa frazione della Comune di Loro Cioffena, dove oggi, domenica 21 aprile 2024, è stato inaugurato il Cammino Partigiano, un cammino particolare, ovviamente per Strade Bianche, nello splendido scenario del Prato Magno, sentiamo le persone intervistate. Ma oggi è più che mai fondamentale, perché con la mancanza dei nostri partigiani, di coloro che la lotta di liberazione l'hanno fatta veramente, ovviamente è importante creare questi momenti di incontro, di toccare con mano quelli che sono stati i punti dove i partigiani hanno avuto l'occasione comunque di passare quei mesi terribili del 1944 e anche di morire fra questi monti. Quindi è fondamentale davvero che noi creiamo queste situazioni, questi percorsi, perché i ragazzi, le scuole possono partecipare, vedere e in questi momenti avere anche una formazione adeguata su quello che è stata la lotta di liberazione, che ce ne stiamo dimenticando. Quindi è importante che facciamo nostro ancora di più di quello che abbiamo fatto in passato, questa situazione, questa realtà, che ci costringe ad essere sempre più in contatto con le istituzioni e pretendere che l'educazione della lotta di liberazione vada veramente nelle scuole e tocchi tutti i nostri ragazzi, perché le radici non vanno dimenticate. Abbiamo voluto fare questa cosa mettendoci anche la frase di Calamandrei, quella famosa che dice che se vogliamo parlare della Costituzione dobbiamo portare le persone a vedere dove è morto un partigiano, dove è stato impiccato e questo percorso idealmente mette insieme tre partigiani che forse nemmeno si sono conosciuti, però idealmente che hanno contribuito alla nascita della democrazia italiana.